Sono contenta di essere questa sera qua con Mario Galabresi che non voleva fare questa cosa ma l'abbiamo obbligato e adesso ci odia perché ha dovuto studiare tantissimo per preparare questa simulazione che sarà bellissima. Gli abbiamo chiesto perché non proviamo a partire da alcune immagini importanti, iconiche contemporanee che in comunicazione, in arte, in cinema, scegli tu quali sono le immagini che ritieni più rappresentative che ritragano bambini e proviamo a capire i bambini che ruolo hanno in queste immagini e nella nostra storia e quindi vi lascio in compagnia di Mario che ringrazio veramente tanto perché diciamo che da fare ne ha parecchio e quindi per un po' di mesi non ti chiederemo più niente ma torneremo, non ti preoccupare. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito, naturalmente mi fa piacere essere qui. Ho pensato che valeva la pena ragionare sulla fotografia e ragionare su come la fotografia ritrae, utilizza i bambini. La fotografia quella pubblica, professionale, il fotogiornalismo quella che vediamo poi sui giornali, sui siti, sui libri perché oggi tutti fotografiamo tantissimo e i bambini occupano la metà delle memorie dei telefoni delle persone che siano figli, nipoti, sono il soggetto preferito. Ma se voi ci pensate la fotografia che si fa tutti i giorni racconta la quotidianità, mentre i bambini nella fotografia, chiamiamola professionale, hanno invece sempre uno spazio, vengono secondo me molto, direi troppo usati come scorciatoia per fare denuncia. Quando un tema non riesce a passare, se c'è una foto di un bambino, quel tema li accelera. Prendete la Siria, i bombardamenti chimici in Siria di cui era stato accusato Assad, non riuscivano a rompere il muro del silenzio, del dibattito all'interno del Palazzo di Vetro nella Nazione Unita New York, poi a un certo punto arrivano le foto di bambini agonizzanti e immediatamente sui tavoli del dibattito dell'ONU con quelle foto incomincia il dibattito. Oppure sempre all'ONU tre giorni fa il tema dei Rohingya, che sono questa minoranza musulmana della Birmania, non si era dibattuto il tema e il dibattito è iniziato con la foto di una madre che tiene un neonato in braccio che è appena morto e con la testa indietro. Allora, c'è un, da mio parere c'è un eccesso di questo utilizzo, che nasce dal fatto che tra le foto, ne state vedendo già una, tra le foto del Novecento che più hanno fatto rumore, che sono entrate nella memoria e che hanno cambiato la percezione, ci sono proprio delle foto che hanno al centro dei bambini. Allora, oggi volevo fare un viaggio in queste foto, la prima parte, diciamo, vi preparatevi è più pesante perché sono le foto drammatiche del Novecento e poi andare a prendere anche gli altri aspetti, perché poi sennò i bambini molto spesso poi vengono utilizzati invece in un modo un po' dolciastro, come vedremo. Questa prima foto, che è forse una delle foto più famose del Novecento, ne ho selezionate tre, è stata scattata a Varsavia, nel ghetto di Varsavia, nel 1943, c'è una discussione su quale momento, se sia probabilmente aprile del 1943, ci sono ventitré persone, ventitré ebrei che vengono portati via e saranno portati nei campi di sterminio e sono presenti nella foto quattro soldati nazisti. Questa foto non è scattata come potremmo immaginare da qualcuno che la scattava per fare una denuncia e dire guardate il rastrellamento, perché dove sta la forza di questa foto? Sta nel fatto che un bambino col cappello troppo grande, il berretto troppo grande in testa, che probabilmente era del padre, con un cappottino corto, sta con le mani alzate con un uomo con il mitra spianato dietro e se ci pensate cosa più di questa immagine può raccontarci la sproporzione che c'è delle forze in campo, la fragilità da un lato e dall'altro il sopruso. E quindi questa foto noi la guardiamo e dice ecco questa è una foto di denuncia dell'aberrazione, dei rastrellamenti nazisti, di persone che poi sarebbero state portate nei campi di concentramento. Invece questa foto è stata scattata dai nazisti e faceva parte di un dossier che doveva servire a dimostrare che la pulizia del ghetto di Varsavia era stata fatta e quindi era una foto propagandistica per dire vedete come stiamo lavorando bene, li stiamo portando via tutti e stiamo ripulendo tutto. Cioè era una foto che stava alla voce efficienza. Il bambino noi con certezza non sappiamo che sia. C'è chi dice che si chiamava Arthur, era nato nel 1935 e quindi qui aveva otto anni e poi sarebbe finito al campo di Treblinka. Chi invece dice che si chiami Zavi era finito a Bergen-Belsen. Uno sopravvissuto, l'altro no. Non c'è chiarezza perché Arthur che poi faceva poi nella vita si salverà ed era appunto per sei genitori ed era, viveva a Varsavia ed era un bambino ebreo, poi si salverà e sarà poi un odonto tecnico a New York e anni e anni dopo disse potrei essere io, non sono certo ma forse mi riconosco e alcune sue foto di bambino potrebbero dire che lui, però altri invece hanno portato altre tesi. Oggi si parla di quattro bambini, probabilmente non sapremo mai chi era questo bambino e credo che sia diventato un simbolo universale anche perché non sappiamo forse chi è. C'è però un dato, questa foto esce fuori circa quasi vent'anni dopo e non vi deve stupire perché le immagini dei campi di concentramento, della Shoah, delle deportazioni, nel primo dopoguerra sostanzialmente scompaiono dalla scena pubblica e scompaiono perché erano troppo pesanti per riuscire a guardare avanti e voltare pagina. Una volta io sono stato ad Auschwitz insieme a due sorelle triestine, le bucci, Andra e Tatiana. Tatiana aveva sei anni e Andra quattro, quando il 4 aprile del 44 vennero deportate insieme alla famiglia ad Auschwitz-Birkenau. Parte della famiglia finì subito nei forni e loro si salvarono perché, pensate la cosa, quando vengono portati via la madre con l'idea che stanno partendo le veste bene mentre li stanno rastrellando e gli mette il cappottino della festa e loro avevano il cappottino uguale. Siccome Andra, la più piccola, era più alta del normale, le bambine sembravano gemelle. Quando arrivano al campo di concentramento vengono selezionate perché un soldato pensa che i gemelli sono le cose su cui fa gli esperimenti il dottor Mengele e che andavano preservate perché potevano servire al dottor Mengele e quindi loro sopravvivono per questo motivo. Andra e Tatiana hanno il numero, il tatuato sul braccio, la matricola di Auschwitz tatuato sul braccio e mi hanno detto che loro fino quasi agli anni 70 non hanno mai detto a nessuno che erano state ad Auschwitz perché la gente non capiva e quando loro provarono a dire tornate dalla guerra, la più grande Tatiana mi diceva, una volta erano a una cena, eravamo all'inizio degli anni 50 ed ero a una cena di persone che conoscevo perché ero tornata a Trieste e a un certo punto mi chiesero ma tu, i tuoi genitori, che cosa è successo eccetera e io raccontai che ero stata deportata in questo campo e in questo campo subito la mia famiglia venne portata in un forno crematorio, ammazzata e la gente fu talmente imbarazzata che alcuni, un paio di persone che mi erano amiche mi dissero ma dai ma non esagerare ma non raccontarci queste storie e allora lei disse mi sono reso conto che quella memoria era troppo ingombrante e che non ne potevo parlare e l'altra sorella mentre lei mi raccontava questo mi disse ma tu pensa che erano i primi anni 50 e noi eravamo sul tram un giorno, era estate, avevamo un vestito senza maniche e quindi a me si vedeva il numero tatuato sul braccio e allora si avvicinò a un gruppo di ragazzi e disse ah ma quello è il tuo numero di telefono? Possiamo prenderlo e invitarti a ballare? E lei disse da allora noi abbiamo sempre portato le braccia coperte perché abbiamo capito che non potevamo permettercelo. Ecco questo è un dato per dirvi che non è che queste foto erano patrimonio di tutti, lo sono diventate molto tempo, più di vent'anni dopo la guerra. Un dettaglio, il militare che ci guarda con il mitra in mano si chiamava Joseph Blosche, era nato nel 1912 e dopo la guerra viveva serenamente, lavorava, nessuno gli diede fastidio. Nel 1961 però vennero trovate negli archivi queste cartelline in cui si dimostrava l'efficienza della pulizia che era stata fatta nel ghetto di Varsavia e allora nella Germania Est una procura incominciò a fare un'indagine e a cercare chi erano questi militari. Uno di questi che venne fermato indicò, nel 1961 indicò Joseph Blosche e disse l'uomo col mitra era un mio commilitone, si chiamava Joseph Blosche, detto Frankenstein, perché colpevole di aver ucciso un migliaio di ebrei durante i rastrellamenti. Perché per spaventare gli ebrei disse noi facevamo delle ronde la sera e passavamo e ogni sera due o tre che trovavamo per la strada gli sparavamo in testa per dare la sensazione che loro dovevano vivere sempre insicuri che in ogni momento la loro vita poteva finire. Fanno un'indagine lunghissima, viene arrestato nel 67, processato e poi venne condannato a morte e la sua condanna venne eseguita nel 1969 quando aveva 57 anni. Capite nel 69, questo succedeva nel 43, lui mai più avrebbe pensato che qualcuno sarebbe andato a cercarlo e a chiedergli conto di quello che aveva fatto. Eppure accadde. La seconda foto di cui parliamo e che vi faccio vedere è considerata la foto più influente nella storia del Novecento. Adesso ci arriviamo. Perché è più influente? Anche più influente di questa? Perché questa, come abbiamo visto, esce fuori più di vent'anni dopo. Questa serve, è stata influente nella memoria ma non ha avuto nessun effetto, anzi era stata utilizzata per dimostrare il contrario durante la guerra. Questa foto invece, molti di voi la conosceranno, è stata scattata l'8 giugno del 1972 in un villaggio appena fuori Saigon dopo un bombardamento delle forze sudvietnamite supportate dagli americani, un bombardamento al Napalm. Questa bambina, quella al centro, nuda, si chiama Kim Pook, aveva nove anni, ha raccontato poi, perché è sopravvissuta, che lei aveva la bocca aperta e gridava brucia, brucia, aveva gran parte del corpo ustionata e il fotografo, la fotografò, poi però la prese e la portò in ospedale e stette lì per vedere che la curassero e le fecero 17 interventi chirurgici. Il fotografo che si chiama Nikut poi ha vinto il premio Pulitzer con questa foto. Che cosa ha questa foto di potente? Perché è stata influente? E perché, perché uno potrebbe dire, si è violata anche, si è violato in maniera molto forte qua l'intimità, il dramma di questa bambina. Ma questa foto ha avuto un impatto sull'opinione pubblica americana talmente forte da essere considerata uno dei momenti di svolta per decidere la fine della guerra del Vietnam. Siamo nel 72, da quel momento gli americani si rendono conto che con foto come questa che hanno perso la guerra non solo là, ma anche nel loro paese e nell'opinione pubblica del paese. Questa è una foto che fa cambiare la guerra, che mette fine alla guerra. Questa bambina cresce, vive in Vietnam, viene mandata a studiare dal regime comunista a Cuba, a Cuba conosce un altro ragazzo vietnamita che studia lì, si innamorano, si sposano e poi però decidono che del comunismo ne hanno fin troppo e scappano e vanno in Canada. Lei in Canada ha avuto due figli, oggi ha 54 anni, fa l'ambasciatrice all'ONU per i diritti dei bambini nelle zone di guerra e continua ad avere le conseguenze di queste bruciature, di queste ustioni. Tanto che due anni fa le hanno incominciato una nuova terapia totalmente nuova, fatta con delle cose che non esistevano al tempo per ridurre il dolore e farle provare a vivere un pezzo di vita senza il tormento quotidiano. Poco tempo fa, nel 2015, quando è stata scattata un'altra foto drammatica che adesso vediamo, fu proprio Kim Pook ad intervenire nelle polemiche se si possono pubblicare foto di questo tipo e a dire ci sono momenti della storia in cui foto come questa e foto come quella che vedremo adesso possono fare la differenza e io credo che sia giusto pubblicarle. La foto questa, anche questa la conoscerete, è una foto terribile di un bambino di tre anni che allora chiamammo, era il 2 settembre del 2015, allora lo chiamammo Aylan e poi invece si chiamava Alan, Kurdi, era un bambino kurdo siriano e veniva da Kobane. A Kobane c'era lo scontro tra Kurdi e Isis, la sua famiglia scappò in Turchia, il fratello del padre viveva in Canada, per cui cercarono di raggiungere il Canada ma non riuscirono ad ottenere un permesso per andare in Canada, per cui provarono a fare quello che facevano in tanti in quell'estate, cioè a salire su un gommone e arrivare a un'isola greca, per poi iniziare un lungo viaggio che loro speravano li portasse in Europa, in Germania, in Svezia dove andavano tutti e poi da lì arrivare andare in Canada dai parenti. Loro partirono, provarono il viaggio due volte e non ci riuscirono, eppure dovevano fare un tragitto di non più di mezz'ora perché le isole greche e la Turchia, qui siamo a Bodrum, sono attaccate e il gommone partì, era notte, ma poco dopo un'onda, un errore di chi lo guidava, il gommone si rovesciò e Aylan, Alan, suo, un fratellino e la madre affogarono. Il bambino è stato trovato così, pensate perché uno pensa ai luoghi di guerra, invece anche quello che mi colpì allora era che lui era su una spiaggia come fosse stata, poteva essere uno dei nostri figli che giocava in spiaggia, perché lui venne trovato sulla spiaggia all'alba dal barista di un hotel che stava sulla spiaggia. Il barista era uscito per mettere a posto, per riordinare, vide qualcosa sulla spiaggia, si avvicinò e trovò questo bambino. È un'immagine emozionante, molto potente e io la pubblicai sulla prima pagina della stampa. Badate, io non avevo mai e non ho mai più pubblicato la foto di un bambino morto su un giornale, qui non si vedeva la faccia ma il bambino era chiarissimo. L'ho fatto però e vi leggo quelle poche righe che scrissi sulla stampa in prima pagina accanto alla fotografia. Era il 3 settembre del 2015. Si può pubblicare la foto di un bambino morto sulla prima pagina di un giornale? Di un bambino che sembra dormire come uno dei nostri figli o nipoti? Fino a ieri sera ho sempre pensato di no. Questo giornale ha fatto battaglie perché nella cronaca ci fosse un limite chiaro e invalicabile, dettato dal rispetto degli esseri umani. La mia risposta anche ieri è stata la stessa, non la possiamo pubblicare. Ma per la prima volta non mi sono sentito sollevato. Ho sentito invece che nascondervi questa immagine significava girare la testa dall'altra parte, far finta di niente, che qualunque altra scelta era come prenderci in giro, serviva solo a garantirci un altro giorno di tranquilla inconsapevolezza. Così ho cambiato idea. Il rispetto per questo bambino che scappava con i suoi fratelli e i suoi genitori da una guerra che si svolge alle porte di casa nostra pretende che tutti sappiamo. Pretende che ognuno di noi si fermi un momento e sia cosciente di cosa sta accadendo sulle spiagge del mare in cui siamo andati in vacanza. Poi potrete riprendere la vostra vita, magari indignati da questa scelta, ma consapevoli. Li ho incontrati questi bambini siriani, figli di una borghesia che abbandona tutto, case, negozi, terreni, per salvare l'unica cosa che conta. Li ho visti per mano ai loro genitori, che come tutti i papà e le mamme del mondo hanno la preoccupazione di difenderli dalla paura e gli comprano un pupazzo, un cappellino o un pallone prima di salire sul gommone, dopo avergli promesso che non ci saranno più incubi e esplosioni nelle loro notti. Non si può più balbettare, fare le acrobazie tra le nostre paure e i nostri slanci. Questa foto farà la storia come accaduta ad una bambina vietnamita con la pelle bruciata dal napalm o a un bambino con le braccia alzate nel ghetto di Varsavia. È l'ultima occasione per vedere se i governanti europei saranno all'altezza della storia. È l'occasione per ognuno di noi di fare i conti con il senso ultimo dell'esistenza. Dopo questa foto, come sapete, ci fu un dibattito, un cambio. David Cameron, allora primo ministro inglese, che aveva rifiutato anche un solo profugo dalla Siria, ne accettò 4.000. La Merkel disse che ne possiamo accettare un milione. Si aprirono le frontiere. Poi ci fu un contraccolpo nelle opinioni pubbliche. La storia attuale la conoscete tutti. Però questa resta una delle foto forse più forti e più significative da ricordarci quello che capitava poco lontano da noi. A questo punto c'è il coro della maestra Loretta Pinna che ha fatto proprio una canzone su Alan Curdi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.